Ero la prima fotografa in Italia che lavorasse per un quotidiano. Dopo forse tre giorni ci fu il primo omicidio. A 16 anni mi sposai, il primo che mi chiese il matrimonio. Sono successe cose molto violente. Io volevo cambiare la mia vita, volevo andarmene e basta. Ho incominciato a 40 anni a fotografare. Ho iniziato una storia d'amore. Subito però, naturalmente, non ci pensavo alla mafia. Dipinto di blu Certe volte cinque omicidi in un giorno. Non era mai successo una violenza simile. Ogni volta a guardare tre negativi tra le stampe, sangue, 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 sangue. E allora ho pensato di bruciarle col fuori. Pensa tu come si sentivano loro. Mi hanno minacciato per telefono di morte. Continuamente, proprio se ci penso, ma perché mi fate pensare queste cose? Fuori la guerra! Fuori la guerra! La paura non deve condizionarci. Io mi sento libera, perché sono libera dentro. Il riconoscimento è una cosa bella. Il successo, preferisco l'amore. Uh, bella cosa... Grazie a tutti.